L'oroscopo di oggi è offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Chiama allo 0773 49 36 60. Ariete Una scelta si avvicina. Vorreste delegare volentieri il compito che vi attende ma sapete che è solamente a voi che aspetta e dovreste affrontare il momento della decisione il più presto possibile. Chiederete consigli a una persona in cui vi fidate ciecamente e troverete l'aiuto necessario. In amore vi rivelerete scostanti. Toro La vittoria è vicina nel lavoro. Andrete incontro a una sfida vittoriosa con chi pensa di saperne più di voi. In amore vi sentirete incompresi e dimenticati ma passerà. Gemelli Si prospetta un appuntamento e questo incontro sarà molto importante perché dal suo andamento dipenderanno alcuni risvolti nell'immediato futuro. State quindi tranquilli e mostrate tutte le vostre qualità senza voler apparire ciò che non siete. In amore una serie di fattori si combinerà in una maniera che non avevate preventivato. Cancro Vi verrà proposto un affare e la voglia di accettare immediatamente potrebbe convincervi a non approfondire tutti gli aspetti della questione. Meritevoli di attenta analisi. Se chiederete consiglio a una persona fidata e competente eviterete sgradite sorprese. In amore un piccolo regalo porterà la felicità. Leone Bellezza e virtù Oggi ne sarete protagonisti facendo sfigurare chi vi sta accanto. Per i maschietti lunga la giornata costruita da impegni interminabili. Per i papà e per i single fatta di lavoretti da troppo tempo rimandati. Per le femminucce oggi grandi divertimenti. Aree commerciali non si salveranno e in più, per alcune, ci sarà un incontro che vi lascerà di stucco. Vergine Giornata ricca di emozioni. Passerete dalla felicità alla rabbia nel giro di pochi minuti a causa di alcune persone che susciteranno la vostra indignazione. La ragione sarà dalla vostra parte, ma non potrete fare a meno di restare con un po' di amaro in bocca. In amore il vostro pensiero sarà rivolto solo in una direzione. Bilancia Dovrete seguire un modello o una procedura che per molti è da ritenere assolutamente infallibile, ma farete bene ad ascoltare un parere prima di procedere. I vostri sforzi in ambito lavorativo non corrisponderanno a un oltrettanto riscontro in termini di risultati. Se non vi abbatterete, tutto migliorerà. In amore vi renderete interessanti agli occhi di qualcuno. Scorpione State in guardia, qualcuno vorrà scoprire di più su di voi. Dite solo lo stretto necessario. In amore si prospetta una comoda soluzione. Sagittario Giornata di scelte importanti, dove verrete messi alla prova da una persona a voi molto vicina. Lasciate la scelta al cuore. In amore cercate di restare con i piedi per terra. Sognare è pericoloso. Capricorno Farete meglio a concedere una possibilità. La tendenza a non lasciare neanche uno spiraio di dialogo potrebbe ritorcersi contro di voi nel momento in cui avrete bisogno. Evitate inutili paternalismi e siate concreti. In amore non dovrete far nascere un inutile antagonismo con la persona amata. Acquario La vostra superbia rischia di superare l'intelligenza. Fate attenzione a non alterare quegli equilibri inviolabili. Rischierete di subirne le conseguenze. In amore allontanate chi tiene voi. Pesci Tempo di bilanci. Potreste rendervi conto che la collaborazione non ha fruttato per come avreste sperato. Valuterete attentamente se proseguire un rapporto di lavoro che nel frattempo si è trasformato in amicizia. O addirittura qualcosa in più profondo. In amore dovrete dividere la passione dalla ragione. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomanti-europei.it